Morì in ambulanza nel marzo 2013 durante una disperata corsa verso l'ospedale San Donato di Arezzo, stroncato da un aneurisma alla orta, dopo essere stato visitato nel giro di poche ore dal medico del pronto soccorso e da uno specialista per essere poi dimesso entrambe le volte. La morte del 69enne di Terontola era così finita al centro di un lungo e delicato processo sul banco degli imputati, i due medici che lo visitarono. Il PM Luigi Nicacci adesso ha chiesto le condanne per loro, otto mesi di reclusione per il medico del pronto soccorso dell'ospedale Santa Margherita di Cortona e la pena di un anno e mezzo invece per il chirurgo cardiovascolare che visitò il paziente al San Donato, una visita programmata al termine della quale il medico mise l'uomo in lista d'attesa per un intervento urgente da eseguire entro 30 giorni. Secondo la procura i medici non avrebbero ben interpretato quei dolori lancinanti alla gamba che il paziente accusava non un'infiammazione all'ervo sciatico e nemmeno una lombosfatalgia come riscontrato invece al pronto soccorso della fratta. All'alba di quel giorno erano infatti tutti segnali di ciò che sarebbe successo da lì a poche ore, un aneurisma fatale. La sentenza adesso è attesa per il prossimo 23 luglio.